Zucchine marinate, freschissime e stra buone! Inizia tagliando le zucchine a fette molto sottili con una mandolina, poi cospargile di sale. Aggiungi il succo di limone, mischia tutto per bene e metti in frigo per almeno due ore. Scola per bene le zucchine, strizza per eliminare l'acqua in eccesso e condiscile con la mentuccia, il basilico, un po' di peperoncino e un filo d'olio. Mischia per bene e aspetta almeno una mezz'oretta prima di servire. Più aspetti, più le zucchine saranno saporite. Sono un antipasto o un contorno che conquista il primo assaggio. Buonissime!